5 minuti che mi casca 5 minuti che mi casca Andrea il corpo Nico il morto Gesù Stava a tirare dovevamo andare a fare le prove Tra il gruppo serio quali siamo non abbiamo fatto niente Ci stiamo crogiolando sul secondo posto di un contest Di una gratifica provvisoria Che è già diventato terzo posto Che è già diventato terzo posto Stato la serata E niente insomma Abbiamo un sacco di cose buone da fare da dire Stai guardando il videoblog Si Di fatto si Andrea qualche dichiarazione da fare Sono sempre stato contrario a questo video Ok Già giù Ok Amico tu qualcosa da dire Ho qualcosa da tagliare Ho qualcosa da fare Tipo Bu 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 Questi giovani mattacchioni di Kafka Ci vediamo la scena musicale Quindi Sì Effettivamente sono troppo forti per essere così Cioè per Infatti Noi stamattina abbiamo pagato un'altra prova E non siamo andati a suonare per penitenza Che comunque ci sembrava giusto e opportuno Non suonare Dedicare queste quattro prove alla riflessione Al sonno Queste quattro ore Al sonno Al sonno Faccia al muro Al cuscino Al cuscino Comunque va bene insomma Noi Una serie di cose le abbiamo detto Una serie di cose le lasciamo come sempre all'immaginazione Siamo quattro magici che esplorano un mondo di fondazione Sì infatti Siamo i pionieri di un nuovo genere musicale chiamato Non so Ma ci provo Noi siamo Mezzo Abbiamo portato il sogno a Napoli Un po' diciamo Noi portiamo i sogni a Napoli Siamo meno Siamo meno Pionieri di altri Comunque va bene Un saluto vai Nico Saluta Ciao Giorgio Ciao Buona giornata a tutti dai Capca sulla spiaggia